Nella videosorveglianza lo storage dei dati è sempre un gran grattacapo. Quali soluzioni proponete? Nello storage è importante avere una buona soluzione di archiviazione RAID, che è una tecnologia che immagazzina i dati su diversi drive, con un aumento della performance in tutta sicurezza, a seconda del sistema RAID che si sceglie. Da 25 anni produciamo soluzioni di archiviazione RAID e ora per il mercato della videosorveglianza abbiamo una soluzione all-in-one, ovvero un sistema con porte in, out, ethernet e ovviamente per lo storage. In questo modo il server per la registrazione tiene assieme il tutto. Ora per noi la sorveglianza è un importantissimo mercato verticale e Promise Technology offre la soluzione giusta. Come è costituito il vostro canale distributivo in Italia? In Italia abbiamo distributori di fiducia che fanno formazione ai rivenditori e li aiutano affinché vengano rispettati tutti gli standard. In questo modo riusciamo a lavorare su grandi progetti, siamo anche partner tecnici di Milestone e con loro sviluppiamo soluzioni integrate. Infatti qui a Sicurezza siete all'interno del Milestone Ecosystem Village. Quali sono le vostre aspettative dal punto di vista commerciale, ma anche dei vantaggi che potete offrire ai vostri clienti? Penso che un cliente desideri avere un solo punto di riferimento a cui chiedere la propria soluzione. Una soluzione nell'ambito della videosorveglianza però ha numerosissime componenti tecniche e Milestone sta riunendo tutti questi partner proprio per far sì che tutti diano una risposta e una soluzione al cliente. Ovviamente nel rispetto delle varietà offerte dai vari partner che hanno telecamere diverse o sistemi di analitica video diversi, ma l'obiettivo è quello di avvicinarsi al mercato con un'unica voce, il che è un'iniziativa lodevole, è quella che porta il nome di Alliance Partners.